ciao a tutti i miei fan e amici di facebook sul sito su myspace e allora siamo alla seconda tranche del singolo stiamo mixando il pezzo il singolo che ancora non vi rivediamo nel titolo non è nulla sarà una sorpresa nel febbraio usciremo ufficialmente in promozione siamo negli studi della mcd mr d music production di doveri colibrano che sta mixando insieme a il vigno sorrentino e massimiliano caruso il pezzo io e la mia presente del fan del mercato che non vedete che sta dall'altra parte e invece ce la stiamo spassando a fare delle riprese abbiamo pensato a voi di lasciarvi un bel saluto un buon fine settimana stiamo lavorando per noi ma stiamo lavorando insomma per il progetto per voi e per regalarvi se ci riusciremo un'altra emozione vi saluto vi bacio tutti ciao a dopo da me e dalla presidente avete sentito la voce fuori campo anzi guardate cosa faccio guardatela qui ecco a katia aspetta aspetta che andiamo là dentro ecco qui massimiliano il nostro irvi domenico sono tutti i mixaggi stanno lavorando salutino ciao 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 ciao